Ora non posso mentire, numeri alla mano, vi dimostro che avevo ragione. Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video dove parliamo nuovamente del Mac Studio. Sì, perché una settimana fa, 15 giorni fa, ho pubblicato la mia recensione del Mac Studio con processore M1 Ultra. La mia voleva essere naturalmente una visione di quello che è il Mac Studio e quello che dovrebbe essere all'interno degli uffici e degli studi professionali. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video che usciranno e per darmi un grandissimo supporto, come già state facendo. Anche se molti di voi che vedono i miei video non sono iscritti al canale. Per voi sarà un piccolo gesto che per me vale tantissimo perché mi fa capire che apprezzate il mio lavoro. La domanda che mi ero posto era se questo tipo di computer valeva quanto costava. Dietro Apple c'è sempre questo fortissimo alone del prodotto che costa di più, del prodotto che è inutilmente più costoso, che è più lento di Windows, che è più lento di una Workstation PC. Sì, è vero, non è vero, ci sono tanti sì e tanti ma. La grande verità, dovrei dirla alla fine del video questa cosa, Anzi, la grande verità è che non esiste una formula perfetta tra un produttore ed un altro, tra un prodotto ed un altro, che ha tutte le funzioni e funziona nel miglior modo possibile. Non esiste. E quindi mi sono messo e come ho detto all'interno del video, nella recensione, avevo fatto dei miei test. Bene, questi test li ho ampliati e ora vi riporto i dati. Questo è un video di pippotto tecnico su tutti i dati dei confronti fatti con una Workstation e un Mac M1 con processore Ultra. Devo sfogare. Devo sfogare perché mi sono arrivati alcuni commenti su alcuni social dove ho pubblicato la recensione, ma quello specifico commento mi ha fatto dire ok, devo fare un video dove chiarisco questi concetti. Nello specifico era un utente che mi diceva che la recensione mi autoconvincevo dell'investimento fatto. Beh, adesso voglio dimostrare che secondo il mio punto di vista l'investimento fatto non è assolutamente malvagio, anzi c'è da riflettere e pensare. Allora, in questo video andiamo a comparare la mia Workstation PC con la Workstation, il Mac Studio per intenderci, con processore M1 Ultra. Andiamo un attimo a fare il recap dei componenti di entrambe le macchine, in verità nella fattispecie processore GPU e RAM e vi vado a parlare anche di quanto li ho pagati. Partiamo dalla mia Workstation PC con base Windows 11, ha un processore AMD Ryzen 9 5900X, una GPU NVIDIA RTX 3008, naturalmente vi descrivo quelli che sono i chip, non il modello specifico della scheda video. Alla fine il chip è un RTX 3080 con 128 GB di RAM e 1 TB di SSD. In queste tabelle che ho riportato ho rifatto quelli che sono i costi al quale secondo me ho pagato un pochino in più, non sono riuscito a ritagliare le fatture, ho preso i costi che ho trovato sul web, ci sono 4.000 euro. In realtà l'ho pagata di più, ma ci sono anche altri SSD all'interno, altri hard disk, cosa che non ho voluto considerare. Quindi la macchina l'ho pagata 4.000 euro. Dall'altro lato abbiamo un Mac Studio, quindi con processore Apple Silicon M1 Ultra, e la GPU invece è sì sempre l'M1 Ultra, ma con 48 core di GPU. Va fatta questa precisazione perché è possibile configurare l'M1 Ultra sia con 48 core di GPU che con 64. Ho sbagliato nel video, dicevo 60. Anche in questo caso 128 GB di RAM. È sempre un SSD di Tera. Andando a fare la somma sul sito dell'Apple, anche qui nel video scorso sbagliato, non è 6.500, ma 5.500. Quindi lo stacco tra un prodotto e l'altro è di circa 1.569 euro, una cosa del genere. Ora, se volete tutte le specifiche tecniche del PC, da qualche parte poi nel caso ve le riporto, se non mi credete. Ora, questo è quindi il quadro da cui parto. Ed ho effettuato una serie di test uguali sia sul PC che sul Mac, andando a valutare sia il comportamento, quindi quanto tempo ci impiegava o il punteggio raggiunto, che il consumo in Watt. Ho utilizzato una presa smart della Meros, che dall'app mi indica anche il consumo al momento del refresh della schermata, così che empiricamente ho potuto ottenere un dato. Non sarà il dato più preciso del mondo, ma diciamo che come punto di riferimento possiamo averne comunque un'idea. È stata utilizzata la stessa presa smart su entrambi i dispositivi ed era collegato solo il computer alla presa smart. Quindi io sapevo esattamente quanto consumava solo il computer in quel momento specifico con l'app della presa smart. Cominciamo subito. Vi faccio un elenco di quelli che sono i quattro test che ho fatto. Se non sbaglio sono quattro. Allora, ho preso in considerazione gli ambiti video. Ambiti video e grafica avanzata 3D. In fattispecie ho eseguito il Cinebench, che è uno dei benchmark più conosciuti per il mondo del 3D, sia su PC che su Mac, e si basa su software Cinebench 4D, che tra le altre cose è il software che utilizziamo noi in studio, che dà un punteggio. Poi ho eseguito un render test, sempre con il programma Cinebench 4D, ma con un motore di render che si chiama Redshift, che è un motore di render GPU, quindi sfrutta la potenza di GPU. E in questo caso ho considerato non il punteggio, perché questo era un render, ma il tempo trascorso. Poi ho preso una serie di file specifici, che erano file della Red Raw, file RAW Red, file RAW della ARRI, e file RAW di Canon R5C o R5, non ricordo, in 8K, e li ho fatti processare tutti quanti in H.264 da Adobe Median Coder, e quindi ho misurato quanto tempo impiegavano per la tasca codifica totale, e poi stesse clip colorate e con degli effetti di denoise all'interno di DaVinci, li ho fatti esportare su Mac, in Apple ProRes 422 HQ, mentre su PC in DNX HQ a 10 bit. Cominciamo, da cosa cominciamo? Dal Cinebench. Ora, Cinebench, come detto, è un benchmark che si fa per capire in multicore, o in single core, nel mio caso ho fatto soltanto il test multicore, la macchina che punteggio ottiene. Ebbene, rullo di tamburi, il PC, naturalmente mi aspettavo che il Ryzen 5900 ottenesse un punteggio minore, perché ha meno core rispetto al Mac Studio. Infatti ha ottenuto un punteggio di 17.767 rispetto al Mac Studio che ha ottenuto un punteggio di 23.157, dove il Ryzen monta 12 core e il Mac Studio 20 core. Quindi questo è un risultato piuttosto scontato perché ci sono dei core in più. Ma il dato strabiliante in realtà è un altro. Andando a misurare il vattaggio, durante il Cinebench, esattamente a metà ho preso come riferimento il momento, perché quello del Cinebench si basa su 10 minuti di render, quindi al quinto minuto in pieno calcolo, ho misurato il vattaggio, il consumo in quel momento del PC e misurava 246,62 wattora, mentre stessa cosa ma il Mac Studio stava consumando 82,62 wattora, quindi meno della metà. E questo non è il dato più sconcertante. Bene, detto ciò, dopo aver fatto questo test mi sono detto ma fammi vedere in un momento di stasi, quindi di non stand-by del computer, ma in un momento in cui il computer è acceso, è aperto, ma non ha nessuna applicazione aperta è in attesa, quindi middle, il PC mi consuma 112,96 wattora, mentre il Mac Studio 25,88, quindi stiamo parlando di meno di un quarto, il Mac Studio consuma meno di un quarto del PC, della workstation. Quindi questi sono i dati per la parte di stand-by e il Cinebench. Passiamo adesso invece al calcolo con Redshift. Come detto, Redshift è un motore di render 3D basato su GPU che funziona sia su architettura Nvidia che su architettura Metal con Apple. Allora, in questo caso il calcolo di una scena uguale per entrambi con, ho fatto diversi render per cercare di assomigliare tutti i parametri perché tra i progetti avevo qualche difficoltà, sul PC, quindi sulla workstation con RTX 3080 ho ottenuto un punteggio di 81 secondi, in questo caso meno e meglio mentre nel caso precedente più era meglio quindi 81 secondi mentre il Mac Studio ha impiegato 118 secondi quindi parliamo di circa un 35% in più quindi il Mac Studio è stato più lento di un 30% ma andiamo a vedere quelli che sono i consumi ed è qui la parte interessante che il PC con il calcolo Redshift consumava nel pieno del render 478,42 wattora mentre il Mac Studio ne consumava 71,87 un quinto anzi no forse anche un sesto non voglio andare oltre nei commenti ho preso gli stessi file come detto all'inizio video che erano un misto di file RAW della Red quindi ad 8K Red misti RAW 3K o 4K lo ricordo Harry e di Canon RAW a 8K le ho lanciati tutti quanti in Median Coder calcolo H264 abbiamo anche qui il punteggio meno e meglio un punteggio di 324 secondi per il PC e 224 per il Mac quindi il Mac è stato un 30% più veloce in questo tipo di calcolo vado a prendere Median Coder nella tabella dei consumi e posso dirvi che nel pieno del calcolo il PC consumava una media di 390,64 Watt ora mentre il Mac Studio 74,17 Watt ora anche qui siamo meno di un quarto di consumi ed ora passiamo a DaVinci DaVinci è probabilmente il software meglio ottimizzato per entrambe le piattaforme perché per esempio il calcolo GPU è più ottimizzato su Windows e sulle piattaforme RTX quindi su questi tipi di processori per questo ho ottenuto un punteggio migliore mentre per esempio Adobe ha lavorato meglio sulla tutta la parte di riscrittura dei software per M1 e quindi è penalizzato tutta la parte Windows sono più penalizzati quindi non esiste una via giusta e corretta di mezzo allora ho fatto le stesse operazioni su Mac e su PC ho preso tutte queste clip che ho buttato nel stesso Median Coder le ho messe anche su DaVinci però qui le ho colorate ho applicato ad una clip specifica della Harry un denoiser molto forte ed ho ottenuto questi risultati su PC Workstation anche qui risultato in secondi quindi meno e meglio ha impiegato 157 secondi mentre su Mac Studio ha impiegato 194 secondi ma devo mettere un asterisco perché avrei dovuto ripetere il test su PC in quanto è crashato più di una volta nella registrazione che ho fatto dello schermo è crashato una volta soltanto arrivando proprio al momento in cui doveva andare a calcolare il denoise è crashato per il programma poi ho rilanciato il render e secondo me la prima parte l'aveva già tutta quanta messa in cache tant'è che è andato molto più rapidamente diamogliela per buona il PC è stato più veloce di circa un 25% rispetto al Mac ma andiamo un attimo a quelli che sono i consumi allora i consumi in media perché ho fatto ho preso i consumi per ogni tipologia di file raw che veniva calcolato ne ho fatto una media sia per PC che per Mac la media dei calcoli su DaVinci è di circa 478,66 watt ora mentre per Mac Studio è una media precisa di 154 watt ora andando a fare un attimo un rapido discursus mentre faceva la codifica dei file red il PC consumava 444,22 watt ora e il Mac Studio 183,50 su Harry Raw micidialmente il PC consumava 525,47 watt ora mentre su Mac Studio 8254 e mentre faceva il Canon Raw consumava su PC 467,08 il Mac 196,32 beh ora con questi dati io volevo soltanto dimostrare che non esiste la workstation o il computer perfetto il PC che costi poco abbia ottime performance e consumi poco o il Mac che costi poco e abbia delle perfette performance insomma non esiste il computer perfetto ma esiste il giusto compromesso il compromesso di prestazioni costo design consumi tutto un enorme equilibrio che va creato sulle proprie esigenze è vero anche che differenze di vattura potrebbero non intaccare tantissimo sulla bolletta a fine mese potrebbero intaccare 5-10 euro questo è vero ma nella scelta nella valutazione per esempio nella mia valutazione dove la macchina il mio computer è perennemente acceso sapere che consuma un quarto rispetto a prima l'incidenza sulla mia bolletta potrebbe essere importante special modo poi se questi ragionamenti li si portano negli studi dove questi computer di questi computer se ne utilizzano molti di più se ne utilizzano 10-15-20-30 considerate il nostro ufficio dove abbiamo almeno 20 computer tutti quanti workstation o assemblate o preassemblati da altre aziende come Adela ad esempio e tutti quanti probabilmente hanno un consumo che è sicuramente superiore a quello di questo mac studio o di questo genere questo nuovo filone di processori che ha sviluppato la Apple ora non sto dicendo che sono i migliori perché come avete visto dai valori sulle prestazioni ci sono delle cose dove workstation pc sono molto più performanti di un mac studio ma nella mia scelta nella mia valutazione ho preferito investire in un prodotto più piccolo di design perché comunque lo tenevo a casa comunque molto potente che mi consumasse un quarto ed è questa secondo me una delle chiavi perché se è vero che un computer su una sola bolletta può non fare la differenza ma 20-30 computer su una bolletta aziendale lì potrebbero fare la differenza e secondo me in un'azienda in un medio termine in un medio tempo può recuperare quel gap di costo della workstation con il costo della corrente risparmiata insomma prendete sempre questi dati e queste informazioni che vi do con le pinze perché sono i miei test empirici e mie personalissime considerazioni io penso che Apple abbia fatto un grande passo in avanti nel capire che le workstation oggi non devono essere soltanto grosse ma devono essere potenti e consumare molto poco e con questi chip ci sono riusciti alla grande praticamente consumando un quarto barra un quinto a parità di stress dando quasi le stesse performance di un'altra workstation insomma io vi ringrazio di esservi sorbiti questo pippottone tecnico sulla comparativa pc contro mac era dovuto in questo momento storico dove si parla tantissimo di risparmio di energia tagli della corrente tutto quello che ci sta portando dietro questo momento storico che stiamo vivendo e che purtroppo si ripercuote necessariamente sulle nostre vite personali e lavorative io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto vi ricordo di seguirmi anche su instagram perché lì pubblico contenuti totalmente diversi parliamo sempre di fotografia ma vedete anche quello che faccio quotidianamente con la fotografia e con il video e un qualche progettino anche particolare insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video e un altro video e un altro video e un altro video